Ma tu sei tutto pazzo, ma tu mi vuoi far pagare l'1% di commissioni per comprare bitcoin? Ma sull'exchange lo pago 0.0 niente, ma che è la storia l'1%? Ma neanche per sogno! Ma va, va, va! E se non fosse realmente così? E se ci fossero delle commissioni nascoste che sull'exchange stai pagando e non te ne rendi nemmeno conto? Bene, oggi vi svelerò un segreto, ovvero che comprare bitcoin sulle piattaforme non custodial potrebbe essere non solo più sicuro, ma anche più economico che farlo sugli exchange. Buongiorno a tutti, dottori e dottoresse, qui Marco Costanza. Oggi, come avete intuito dal titolo e da questa piccola gag iniziale, andiamo a parlare delle fees su bitcoin e a fare un confronto su dove sia meglio acquistarle. Perché, andando a leggere insieme questo articolo che parla proprio delle fees, del problema che hanno gli exchange, andremo un po' ad esplorare e a fare una disamina di questo argomento che in realtà sembrava scontato che sull'exchange pagassi meno. E invece adesso vi faccio vedere un po' di cose che invece dimostrano l'esatto contrario. Allora, fatemi fare una piccola introduzione. Cercherò di essere breve, se siete veramente all'inizio potreste non capire tutto, ma non voglio stare qui a perdere 50 ore a dire le stesse cose. Quindi, tre metodi principali per comprare bitcoin. Peer to peer, tramite, diciamo, aziende che vendono bitcoin e vi rivendono non custodial, e poi gli exchange, che sono invece custodial. La prima soluzione è sicuramente quella più costosa. Ho il vantaggio di poter scegliere una quantità infinita di metodi di pagamento per comprare i miei bitcoin. Ho il vantaggio che sto comprando dei bitcoin non KYC. Vi faccio anche vedere, qualcuno lo specifica anche un po' più nel dettaglio. Qual è il contro? Che il prezzo di bitcoin ad oggi è 49.250 circa. Su queste piattaforme puoi trovare anche gente che lo vende a 60.000. Spero di aver detto euro, di non aver detto dollari. Comunque, qui i bitcoin costano molto più cari, e quindi possiamo immaginarci delle commissioni anche fino al 10%, ma sto comprando non custodial e non KYC. Ci sono poi dei metodi, invece, che sono delle vie di mezzo, si avvicinano un pochettino di più agli exchange. Perché? Perché non sto più comprando da un privato, come in questa situazione, ma sto comprando da un'azienda. E mi sto riferendo a piattaforme come Relay e Pocket Bitcoin. Ora, dopo, magari verso metà o verso la fine del video, vi spiego anche, e se non lo faccio ricordatevelo nei commenti che mi sono dimenticato e ve lo spiego, quale preferisco tra le due. Perché ci sono dei pro e dei contro le entrambe, ma adesso rimaniamo nel facile. Queste piattaforme cosa permettono di fare? Di comprare bitcoin direttamente da loro, di riceverli, e questa è la cosa importante, direttamente su un mio wallet, e in questo caso pago circa l'un per cento di commissione, l'uno, l'uno e mezzo, dipende dalla piattaforma, da alcune variabili. Siamo più o meno lì, uno, uno e mezzo. Ripeto, è non custodial, quindi ho io il controllo dei miei bitcoin. E chiudiamo infine con le piattaforme stile exchange, come ad esempio qua ho preso Coinbase e Binance, dove invece le fees sembrano essere molto più basse, per comprare bitcoin ci sono delle fees ridicole, direi tipo lo 0,1%, lo 0,5%, ma anche lo 0% a volte fanno delle offerte, adesso dovrei trovarvele più precise. Comunque ci avviciniamo veramente delle commissioni veramente, ma veramente basse, e però ci sono delle robe che... Ne parliamo adesso, ne parliamo adesso, adesso ve lo faccio vedere. Allora, io partirei subito senza troppi indugi da questo articolo, perché il nostro buon amico Jameson Lopp, eccolo qua, ci dice, volevo fare una cosa simpatica, ho chiesto a ChatGPT di generare una seed bitcoin, una seed phrase, che fosse un wallet, ma fosse anche una frase di senso compiuto. E così ha scritto le parole A noi sembra una frase, sembra una sentenza, ma in realtà queste parole vanno anche a comporre proprio un wallet bitcoin. E quindi lui ha detto, sarebbe divertente vedere chi lo scopre, e quindi ci carico dentro 100 dollari. Siccome però, per ragioni di privacy, non volevo caricare direttamente con i miei fondi, allora ho deciso di comprare 100 dollari su Coinbase, e fare un withdraw, quindi prelevarli sul mio wallet giveaway. E qua si sono verificate un po' di sorprese. Allora, subito mi sono reso conto che non avrei avuto 100 dollari, perché si sarebbe preso un 3.5% di commissioni totali per tutto quello che riguarda appunto l'acquisto e il prelievo. Mi sembra giusto, no? Che prendano un profitto per il loro servizio. Va bene. Ma immaginate il mio shock quando ho visto che le withdrawal fee erano di 60 dollari. Cioè, lui voleva prelevare 100 dollari di bitcoin acquistati su Coinbase e gli chiedeva 60 dollari di commissioni. E lui diceva, ma è impossibile, cioè sto pagando il 60%? C'è qualcosa che non va. E allora qua inizia ad investigare. E si accorge di una cosa abbastanza particolare. Perché in quel periodo le fees erano abbastanza basse. Cioè, guardate qua, 3 satoshi per virtual byte. Cosa vuol dire? Spero di non entrare troppo nel tecnico e che riusciate a seguirmi. Ma i satoshi per virtual byte sarebbe quanti pezzettini di bitcoin devo pagare, devo lasciare al miner per portarmi via gli altri. Cioè, per far la transazione. Un prelievo che cos'è? Non è nient'altro che una transazione che dice, dai Coinbase, spostami i fondi su quest'altro wallet. Cioè, il mio. E come vediamo, quando le commissioni sono molto basse, cioè 2 satoshi per virtual byte, significa che mediamente una transazione, anche in high priority, cioè che ho molta fretta di fare, che voglio mettere nel prossimo blocco, costa circa 23 centesimi di dollaro. 10 centesimi in euro, 15 centesimi. Costa molto molto poco. E sia, questo qui adesso è il presente, cioè oggi, sia in questo periodo le commissioni sono molto molto basse, ma lo erano anche quando lui ha fatto questo prelievo. Quindi ha detto, ma scusa, se le commissioni sono così basse e i dati sono on-chain, lo vedo on-chain che costerebbe 50 centesimi, perché me ne chiede 60? E allora lì arriva la prima spiegazione. Infatti si accorge, anche grazie a Mononaut, un account Twitter veramente, chiamiamolo X, molto molto interessante, che proprio in quel momento stava accadendo una situazione un po' particolare su Bitcoin. Non esattamente in quel momento, ma diciamo nei momenti lì vicino. Cioè, le commissioni su Bitcoin, aspettate che vi vado a quel momento, allora qua eravamo al blocco 8, 5, 7, 9, 1, 0. Quindi andiamo al blocco 8, 5, 7, 9, 1, 0. Ok, andiamo lì. E vediamo che i satoshi per virtual byte, li vedete qua in alto, erano, guardate, nel passato, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 5, 3, 8, 717, 1.554, 1.114, 1.720, insomma, un aumento spropositato delle fees. Erano arrivate a veramente cifre folli. E però, scusate, abbiamo detto che il nostro amico, Jameson Lop, era al blocco, 857, 933, se noi andiamo a vedere, guardate le commissioni, sono rimaste alte fino al blocco 916, e poi hanno cominciato effettivamente a scendere. E al 33, già da mo' che le commissioni erano tornate, vedete, 3, 3, 3, 6, 41, 3, 3, 5, 3. Quindi, non si spiegava minimamente il fatto che le commissioni erano rimaste così elevate anche su Coinbase. Apro e chiudo parentesi. Se volete scoprire come mai c'è stato questa esplosione delle fees, e vi anticipo, non sono stati gli ordinals, vabbè, ve lo dico, ditemi se volete l'approfondimento, perché qui è stato lanciato il primo Bitcoin Proof of Stake, tra mille virgolette. Però è stato lanciato un protocollo che permette di mettere in staking e guadagnare dei nostri Bitcoin. Se volete un approfondimento su quello che è successo durante quel periodo, e soprattutto che cos'è un Bitcoin che si può mettere in staking, e tutte le mille implicazioni che questa cosa può avere, scrivetemelo nei commenti, se raggiungiamo almeno i 50 commenti, che sono tantissimi, ma se arrivo a 50 commenti che mi chiedono il video sul Bitcoin Proof of Stake, lo facciamo, perché è successo, è arrivato, vabbè, una cosa un po' particolare, un po' tecnica, ma nel caso poi ne andiamo a parlare. Tolto tutto questo argomento che, ripeto, rischiamo di andare off topic, quindi cancelliamo questo tipo di Bitcoin, rimaniamo sulle fees, che si erano alzate e si erano abbassate. Ci fa vedere poi Jameson Lopquin come, giustamente, le commissioni erano passate da 4 satoshi a più di 500, e qui fa riferimento ad un articolo che aveva scritto tempo addietro, e quest'articolo diceva proprio le sfide sulla stima dei costi di transazione su Bitcoin, perché il problema era andare a calcolare quanto dovessero pagare i miner per, cioè, quanto dovessi pagare i miner per prendere quei soldi da Coinbase e portarmeli sul mio wallet. Questa cosa qua è una cosa che fa in automatico Coinbase, cioè, non è che io devo scegliere su Coinbase quante fee pagare, è Coinbase che in automatico che cosa fa? prende una media dell'ultimo periodo di quello che è successo in un arco temporale suo, ora non so precisissimamente come le ha scelte, comunque, fa una media e dice, visto che mediamente sono costate 779 Satoshi Virtual Byte trasferire dei Bitcoin, tu che mi stai chiedendo il prelevo in questo momento, io ti devo far pagare queste fees, perché queste sono le fee medie che ci sono sul protocollo, anche se come abbiamo visto non corrispondeva alla realtà perché le fee medie erano di un numero molto limitato di blocchi una trentina di blocchi prima, non mentre lui stava prelevando. E questo problema qua adesso appunto andiamo a vedere poi come si sviluppa, anche perché solitamente che cosa fanno? Fatemi giungere anche questa cosa, gli exchange solitamente fanno le transazioni in batch, cioè le raggiande si sviluppano se io devo prelevare dei Bitcoin e lo chiedo adesso e poi arriva un altro utente e lo chiede tra un secondo, un altro utente tra 5 secondi, un altro tra un minuto, Coinbase non può ogni volta fare una transazione perché costerebbe un sacco spedire tutti questi fondi perché ogni volta paga le commissioni anche se sono basse e pagali per tutti e allora il mio modello di business dov'è? E allora che cosa fanno gli exchange? Aspettano che ci sia un numero un po' interessante di transazioni che ne so dico numeri a caso è mille transazioni quando ci sono mille richieste di prelievo allora le mette tutte insieme e inizia a dire fa una transazione con guarda dividi queste dividi questi soldi che devi inviare in tizio, caio, sembronio bla 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 lui il nostro amico Jameson Lopp è andato un attimo a capire la sua transazione che cosa stesse facendo e quindi ecco qua che va a scoprire che la sua transazione aveva nove output cioè stava pagando otto persone diverse perché otto e non nove perché una è la transazione di resto cioè i bitcoin che tornano a Coinbase se non sapete come funziona bitcoin e UTXO ho fatto dei video apposta non entrerò adesso nei dettagli allora a questo punto lui va a farsi dei calcoli e dice allora quello che stiamo trasferendo è almeno le fee che io ho pagato sono 0.001 quello che io dovevo pagare le fee totali sono 0.002 cioè io sto pagando il 39% di queste fees ma come è possibile cioè se siamo in otto persone che ci stiamo dividendo questo prelievo perché l'abbiamo richiesto più o meno nello stesso momento come è possibile che io sto pagando il 39% dovremmo dividerci tutti equamente le commissioni da pagare perché io ne sto pagando di più e quindi questo è il primo problema che sorge lui dice Coinbase carica a tutti i charged cioè ci commissiona tutti 0.001 di commissioni ma poi paga solo 0.0027 questo vuol dire che si è messo in tasca 350 dollari totalmente così a gratis cioè io sto dicendo prendo una prendo una transazione la divido in otto persone ma a ognuna di queste persone faccio pagare la metà delle fees cioè io sto guadagnando dopo due persone che me l'hanno pagata io dalle altre sei sto facendo profitto ci sono soldi che mi prendo io perché ormai le commissioni sono state pagate e quindi già qui c'è qualcosa un po' che non funziona e lui dice io qui sono stato fregato non uno ma in due modi differenti il primo perché non stavo pagando la mia share cioè la mia parte giusta avremmo dovuto dividere per otto e non che io pagavo il 40% in più io avrei dovuto pagare l'un per cento di quello che Coinbase mi chiedeva non 60 dollari ma 6 dollari perché qui quando lui sta facendo la transazione erano 7 satoshi per virtual byte non 778 e quindi questa cosa interessante è che lui dice Coinbase prima si è fatto 4 dollari durante il processo di vendermi il bitcoin e poi me ne ha chiesti 40 quando io volevo prelevare questi questi bitcoin come fees della transazione totale ora l'articolo continua avendo dei pensieri come si possono risolvere queste cose come migliorare cosa fare cosa non fare il discorso qual è così arriviamo anche noi a una conclusione tutto quello che avete visto sorge dal problema del calcolo delle fees infatti se noi andiamo su Coinbase ma questo discorso vale anche per Binance e leggiamo quali sono le fees di prelievo ci dice minor fees per assicurare un'esperienza come dice smooth morbida oddio non mi viene fluida ai nostri clienti è un tempo ragionabile per il processare le transazioni Coinbase commissionerà quindi ti farà pagare delle fees in base a quello che noi pensiamo che dobbiamo andare a pagare durante la nostra transazione quindi durante poi il prelievo e quindi quello che noi andiamo a fare è una stima infatti qua ci dice le fee che Coinbase paga potrebbero differire dalle fee stimate questo te lo dice Coinbase te lo dice ovviamente anche Binance che dice per ogni withdraw a flat fee is paid quindi per ogni prelievo viene pagata una fee base quindi quella la paghi sempre in più sono determinati dal network dalla blockchain quindi da fattori come la congestione eccetera eccetera tutto questo ci fa capire che è se io compro sull'exchange mettiamo anche che io deposito con trasferimento bancario quindi pago pochissimo se non mi sbaglio qua Binance ci diceva che ma anche Coinbase ci diceva che pago 15 centesimi per depositare con col trasferimento bancario con un bonifico quindi pago pochissimo per depositare pago magari anche poco per comprare bitcoin adesso magari Coinbase ha delle commissioni più alte su Binance sono più basse dipende insomma dall'exchange dove compro ma poi nel momento in cui voglio prelevare e voglio veramente diventare il capo il possessore di quei bitcoin rischio che le commissioni siano molto e non sto dicendo solo più alte ma molto più alte che aver comprato quei bitcoin sui sistemi che vi dicevo prima cioè rely o pocket perché ve lo vado anche a leggere qua quando si parla di commissioni ora vediamo se trovo le FAQ dove si parla di commissioni ve lo vado a cercare allora cerchiamo subito andiamo un attimo indietro rely fees allora vediamo se sono qua vi volevo far leggere proprio il loro il loro statement allora le fee che paghi diciamo la fee più bassa che puoi pagare è l'1% questa fee più bassa ce l'hai se fai un piano di acquisto mensile o settimanale se prendi almeno 100 euro e se hai un referral code vi ho già detto che il codice costanza avete sconto a vita sulle commissioni ma la cosa più interessante è la prima cosa che leggiamo le nostre all in one fee cioè fee tutto in uno includono le fee del servizio le fee dello spread cioè del broker le fee scusate le fee del broker cioè che si prende rely dello spread cioè di quello che è la differenza di prezzo e anche le network fee cioè con rely o pocket bitcoin io vedo sì una commissione più alta rispetto eh ma l'exchange mi chiede lo 0 o 1 com'è possibile che qua chiede l'1 ma queste sono fees tutto compreso compreso le fees di prelievo se io voglio mettere i miei bitcoin su un hardware wallet e dall'exchange lo devo quindi togliere bitcoin per metterlo sull'hardware wallet io alla fine della fiera pagherò di più a pagare di meno e farmi il KYC piuttosto che comprare su una piattaforma non KYC o comunque definiamola KYC lite adesso vi spiego perché posso trasferirla direttamente su quel dispositivo infatti quello che non vi ho ancora detto è che quando io compro con Relay o con Pocket io posso sia utilizzare il loro wallet cioè loro nel senso che della loro applicazione ma un wallet non custodial cioè sono io il proprietario di quel portafoglio non è Relay non è Pocket a differenza dell'exchange ma posso anche dirgli direttamente di darmi quei bitcoin direttamente sull'hardware wallet direttamente ad esempio sul bitbox che è l'hardware wallet che io consiglio per detenere i propri bitcoin questa cosa qua fa una differenza immensa e vi fa capire alla fine della fiera che comprare con questi servizi è più economico che comprare sull'exchange e poi portare a casa un'ultima cosa che vi avevo promesso di dirvi non mi sono dimenticato la differenza tra Pocket è Relay quindi abbiamo capito che conviene utilizzare questi servizi ma quale conviene tra Relay e tra Pocket allora dipende un po' dalle vostre richieste perché allora andiamo su Relay un secondo Relay da ottobre sarà KYC quindi richiede anche Relay i documenti è una grande pecca sì e no nel senso se già prima io avevo fatto acquisti sugli exchange in giro vabbè niente ne farò un altro se sono sempre stato invece privato ed anonimo e allora a quel punto no vi consiglio di andare su Pocket però Relay è fatta meglio per mio parere gusto personale la grafica è migliore l'interfaccia insomma mi piace molto di più come è stata gestita e in più le commissioni sono all'1% su Pocket invece le commissioni sono all'1,5% anche qua dovrebbe esserci scritto eccolo qua paghi l'1,5% però al scusate non vi ho fatto vedere pagate l'1,5% però al momento al momento ancora non è KYC penso che sicuramente lo diventerà anche Pocket Bitcoin è solo questione di tempo tutte le aziende diventeranno KYC sicuramente prima o poi però insomma ecco la la cosa con Pocket Bitcoin è che pagate un po' più di fees ma ancora potete non fare il KYC e quindi basta un semplice trascimento bancario non dovete mettere alcun dato e vi arrivano direttamente i Bitcoin questa cosa può sicuramente essere un po' più oriented verso la privacy e l'anonimato dottori dottoresse io spero di avervi insegnato una cosa nuova di avervi svelato un arcano che è sempre stato un po' così un po' fumoso ma veramente Marco io non pensavo pensavo l'exchange fosse più economico già che si prendeva i miei dati e mi faceva pagare no invece no invece no invece no dottori dottoresse fatemi sapere cosa ne pensate di questi video io vi chiedo di lasciare un mi piace e iscrivervi a questo canale se vi piace questa tipologia di video sia per supportarmi ma anche per voi per non perdervi poi gli sviluppi negli altri argomenti che vi ricordo se arriviamo a 50 commenti che mi richiedono di spiegarvi Bitcoin Proof of Stake ma io so già che non ci arriviamo perché a chi cazzo mi chiede niente però metti che ci arriviamo e siccome è una roba iper tecnica di cui non frega niente a nessuno è per questo che non voglio farla ma se siete in 50 ve la faccio parliamo anche di quel Bitcoin di una cosa appunto un pochettino un po' più tecnica chiudo dicendovi se avete bisogno di consulenze richieste informazioni su Bitcoin sapete dove trovarmi qua sotto trovate il mio sito internet lì sopra ci sono tutti i servizi le cose che offro non ne parlo molto ma in realtà lo faccio quindi se avete bisogno qua sotto trovate tutto buona giornata e a presto a presto a presto Grazie a tutti